Luigi ha voluto mangiare una mela Sofia è dovuta uscire con Claudia Stamattina mi sono svegliato alle 6 Oggi Giovanni ha 19 anni Sofia è molto bella vestita così Luca è potuto venire in macchina Gli amici hanno voluto alzarsi tardi I bambini non sono potuti uscire I loro genitori si sono dovuti alzare Le mamme hanno preso gli ombrelli Sofia non è potuta venire in auto Le amiche di Lisa sono dovute partire Luca e Gianni hanno fatto 16 anni Questa donna è stata molto bella Luca ha voluto ascoltare la musica Bisogna che io prenda un giorno di ferie Mi piacerebbe che tu venissi da me stasera Voglio che lui venga domani mattina alle 10 Speravamo che voi arrivaste un po' più presto Pensavano che noi fossimo già arrivati a casa Facciamolo così che la mamma sia contenta Anche se lui avesse una scusa non lo perdonerei Credevamo che il biglietto costasse molto meno Serve che io cambi le gomme dell'auto Ci piacerebbe che voi faceste un piccolo viaggio Vogliamo che loro ci dicano cosa è successo Forse è meglio che tu vada a chiedere Non sapevamo se le mele fossero già finite Ti ho dato un libro così che tu lo legga Volere Io voglio Tu vuoi Lui, lei vuole Noi vogliamo Voi volete Loro vogliono Potere Io posso Tu puoi Lui, lei può Lui, lei può Noi possiamo Voi potete Loro possono Io volevo Tu volevi Lui, lei voleva Noi potete Noi voleva Noi volevamo Noi volevamo Loro volevano Noi volevano Noi potete Io potevo Tu potevi Lui, lei poteva Noi potevamo Noi potevamo Loro potevano. Dovere Io devo. Tu devi. Lui e lei deve. Noi dobbiamo. Voi dovete. Loro devono. Sapere Io so. Tu sai. Lui e lei sa. Noi sappiamo. Voi sapete. Loro sanno. Io dovevo. Tu dovevi. Lui e lei doveva. Noi dovevamo. Voi dovevate. Loro dovevano. Io sapevo. Tu sapevi. Lui e lei sapeva. Noi sapevamo. Voi sapevate. Loro sapevano. Loro sapevano. L'ho mangiato anche stavolta. Non ci ho nemmeno pensato. Non sono uscito neanche oggi. Non voglio neppure una mela. Avete aspettato anche troppo. Lunedì ci siamo perfino divertiti. Pure voi fate la spesa la sera. Non ci sono nemmeno andato. Ho guidato perfino in campagna. Forse non c'è neanche Luca. La mia auto ha anche la radio. Neppure in spiaggia c'è gente. Pure Claudia è uscita dal bar. Il mio amico è anche un atleta. Noi abbiamo cercato di chiamarti. Io ho dato la penna a Claudio. Loro hanno continuato da sole. Carla è ritornata dal viaggio. Oggi sono andato a lavorare. Noi abbiamo visto un gatto nero. Luca ha dimenticato le chiavi. Loro hanno visitato il museo d'arte. Voi siete usciti dal ristorante. Luigi è partito per le ferie. Lei ha comprato questo cane. Voi siete andati in pensione? Tu hai avvertito i tuoi genitori? Le rane sono saltate nell'acqua. Voi avete evitato un incidente. Io ho lavato la macchina. Noi abbiamo messo via la spesa. Tu hai corso fino in stazione. Maria ha ottenuto il diploma. Noi siamo stati spesso a Roma. Tuo figlio ha giocato a calcio. Io sono. Tu sei. Lui, lei è. Noi siamo. Voi siete. Loro sono. Loro sono. Io ho. Tu hai. Lui, lei ha. Noi abbiamo. Voi avete. Loro hanno. Io so. Tu sai. Lui, lei sa. Noi sappiamo. Voi sapete. Loro sanno. Io do. Tu dai. Lui, lei dà. Noi diamo. Voi date. Loro danno. Io sto. Tu stai. Lui, lei sta. Noi stiamo. Voi state. Loro stanno. Io faccio. Tu fai. Lui, lei fa. Noi facciamo. Voi fate. Loro fanno. Io vado. Tu vai. Lui, lei va. Noi andiamo. Voi andate. Loro vanno. Io bevo. Tu bevi. Lui, lei beve. Noi beviamo. Voi bevete. Loro bevono. Io esco. Tu esci. Lui, lei esce. Noi usciamo. Voi uscite. Loro escono. Io vengo. Tu vieni. Lui, lei viene. Noi veniamo. Voi venite. Loro vengono. Il banco di Maria. Il suo banco. La matita di Carlo. La sua matita. I fiori del giardiniere. I suoi fiori. Le penne di Paolo. Le sue penne. I dischi delle ragazze. I loro dischi. I miei e i tuoi fogli. I nostri fogli. Le tue e le sue scarpe. Le vostre scarpe. La borsa delle signore. La loro borsa. Gli zaini degli scolari. I loro zaini. L'auto del ragazzo. La sua auto. La mia e la tua scuola. La nostra scuola. Il mio e il suo cane. Il nostro cane. Le tue e le loro scarpe. Le vostre scarpe. La radio di Luca e Paolo. La loro radio. Il libro del segretario. Il suo libro. Gli occhi di Carla. I suoi occhi. Che libro leggi? Cosa leggi? Che cosa fai? Chi è quella persona? Chi viene alla festa? Di chi è questa rivista? A chi hai dato la rivista? Maria, come stai? Come si chiama il tuo amico? Dove vivono i tuoi amici? Dove vai a scuola? Perché dici questo? Perché non vai alla festa? Quando vai in Italia? Quanta carne mangi? 23 gennaio. 14 febbraio. 7 marzo. Quattro aprile. 3 maggio. 30 giugno. 31 luglio. Primo agosto. 8 settembre. 27 ottobre. 18 novembre. 25 dicembre. Marco dice che rinvierà la partenza di due giorni. Marco aveva detto che avrebbe rinviato la partenza di due giorni. La signora Marini dice che il figlio si laureerà entro giugno. La signora Marini aveva detto che il figlio si sarebbe laureato entro giugno. Il direttore stabilisce che le vendite inizieranno prima dell'estate. Il direttore aveva stabilito che le vendite sarebbero iniziate prima dell'estate. I nostri amici sono d'accordo, festeggieremo la vittoria in pizzeria. I nostri amici erano d'accordo. Avrebbero festeggiato la vittoria in pizzeria. La mamma dice che comprerà tutto il necessario. La mamma diceva che avrebbe comprato tutto il necessario. La polizia è convinta che l'omicida tornerà sul luogo del delitto. La polizia era convinta che l'omicida sarebbe tornato sul luogo del delitto. Marco e i suoi amici dicono che in estate andranno in campeggio. Marco e i suoi amici dicevano che in estate sarebbero andati in campeggio. Il professore assicura che farà tutte le pratiche necessarie. Il professore assicurava che avrebbe fatto tutte le pratiche necessarie. Il professore assicurava che avrebbe fatto tutte le pratiche necessarie.